Pochi soldi insufficienti anche a coprire le misure già votate dal Governo e assenza di interventi cruciali per la tenuta del servizio sanitario. In audizione presso le commissioni bilancio riunite di Camera e Senato il Presidente di Fondazione Gimbe boccia la manovra. Senza adeguate risorse e coraggiose riforme di sistema diremo definitivamente addio all'universalismo, all'uguaglianza e all'equità, principi fondamentali del servizio sanitario nazionale. Le risorse inoltre, sottolinea la Fondazione Gimbe, sono ampiamente insufficienti per finanziare anche le misure già previste dal Governo. All'appello mancano 19 miliardi da qui al 2030. L'incremento di 2,5 miliardi di euro per il 2025 aumenta il Fondo Sanitario Nazionale a 136.500 miliardi di euro, di fatto solo dell'1% rispetto a quanto già fissato nel 2024. La situazione si fa ancora più allarmante se si guarda alla spesa sanitaria in rapporto al PIL. La quota del prodotto interno lordo destinata alla sanità scende dal 6,12% del 2024 al 6,05% nel 2025, fino ad arrivare al 5,7% nel 2029. L'aumento progressivo del Fondo Sanitario Nazionale in valore assoluto, sempre più sbandierato come un grande traguardo, è in realtà una mera illusione.